La situazione è grave, non se ne può più Eh 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 Esatto, poi Valencia, di tutto il resto poi Se ci fosse pipa pa Se ci fosse pipa pa Se ci fosse pipa pa Da comandà Ragazzi Se Se ci fosse pipa pa Se ci fosse pipa pa Da comandà Se vocalizza Oh 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 un po' un po'